Se il signore là parla ancora di abbandono un'altra, non ha capito un cazzo. E quindi che stiamo a parla a fare? No, qualcosa su stamani mattina. Non sono io che non ho capito. Ma scusi, ma mi scusi, ma come fa a dire qui? No, lei l'ha tutta sul computer, i palcoli. No, cazzo, non lo so più. Lei è allattata, io l'ho seguita. No, lei stava giù e il vice sindaco stava sopra. Stava sopra. Il comandante dei palcoli diceva che salga al bordo. Comandante. Si documenti, si documenti. Lei non si spiega, mi sono documentato. È lei che viene al camperlaia. Dica la verità.